Sarà un concerto che vuole riassumere tante suggestioni, l'abbiamo voluto chiamare Trieste tra memoria e futuro. Ricorderemo il maestro Andrea Giorgi che è stato maestro del coro del nostro teatro e questa è la parte della memoria, ricordano i cinque anni della sua scomparsa, ma anche futuro perché l'orchestra della diocesi, l'orchestra giovanile San Giusto, un'orchestra proprio giovanile, ragazzi molto giovani sia strumentisti che il direttore e quindi è una grande prospettiva per Trieste, per la diocese di Trieste, quello di fare musica, di fare cultura, di rimettere il connubio tra Vangelo e arte al primo posto anche nel nostro agire pastorale. Un repertorio impegnativo, d'altra parte dove ci sono i giovani c'è bisogno di sognare in grande. Intanto inizieremo con l'ouverture del Così fan tutte di Mozart, poi ci sarà la nipote del maestro Giorgi, una violinista nata a Trieste ma di nazionalità francese, Matilde Louridon, che ci diletterà con il quinto concerto in re maggiore di Mozart. La seconda parte del concerto, poi una sinfonia mi piace dire spumeggiante, quella di Haydn, la numero 100. Grazie a tutti.